Ogni anno a Visioni Italiane dedichiamo sempre uno spazio a un tema, più che ai mestieri ad alcuni aspetti. Insomma abbiamo fatto i giovani attori emergenti, abbiamo parlato l'anno scorso da remoto con i direttori della fotografia, avevamo parlato con i produttori e quest'anno ci è venuto in mente di parlare con i montatori, parlare di montaggio. Ci è venuto in mente anche perché di tutti quelli che hanno delle varie fasi della lavorazione del film funestate dal lockdown, in apparenza il montaggio è quello che in qualche modo ha potuto proseguire fino a un certo punto e forse accentuando o differenziandosi da alcune caratteristiche proprio del lavoro che il montatore fa a fianco al regista. Perché abbiamo messo questo titolo un po' vago e fantasioso, La solitudine del montatore, che poi è una solitudine fino a un certo punto perché è almeno una solitudine a due, a tre, ma forse adesso era ancora più solitudine perché alcuni film so che sono stati montati e lo saranno forse ancora in futuro da remoto, si è lavorato proprio a distanza, una delle poche cose che si potevano fare impunemente da remoto. a parlare con noi, non a fare delle teorie generali del montaggio, ma a parlare proprio dell'importanza che tra racconto, rapporto con le immagini, rapporto con il nostro immaginario ha il montare le immagini, prenderle, metterle in fila, a cercare di dare un senso a queste immagini che ci circondano dentro e fuori il cinema. Abbiamo una serie di registi e montatori, non c'è come annunciato nel programma cartaceo Pietro Marcello, mentre Giorgio Ditti non c'è ancora, sta arrivando, ma sono con noi dalla mia destra Saraf Gaier, regista e montatrice, Carlotta Cristiani, Cristiano Travaglioli e Paolo Cotignola, che sono montatori e che coprono uno spettro abbastanza vario di che cosa si può fare con le immagini, da un cinema narrativo mainstream a quello d'autore di un certo tipo, a quello più sperimentale, ci interessava variare un po' il tipo di lavoro. Pietro Marcello e Giorgio Ditti erano stati invitati anche per questo, perché da un lato Pietro ha un rapporto particolare con le immagini, soprattutto con le immagini d'archivio, che però è integrato sempre più con il racconto vero e proprio, e Giorgio Ditti ha la peculiarità rara tra i registi di essere un regista che ha anche montato, credo da solo i primi film e ha co-montato, ha firmato anche insieme a Paolo Cotignola, il montaggio per esempio dell'ultimo film, volevo nascondermi. Cosa credo rara in Italia, l'unico altro esempio che mi viene è quello di Tornatore, che ha firmato il montaggio di un paio di film, mi pare la sconosciuta e un altro da solo, cioè un caso abbastanza, sono due casi abbastanza rari di regista barra montatore. Quindi con questo il tema è vasto e inevitabilmente parleremo a partire dall'oggi, dal presente, dalla mutazione sociale e tecnologica in atto, in realtà da molto tempo. Poi io vorrei partire con la più giovane e con quella che ha il percorso più singolare e infieri, diciamo, Saraf Gaia è appunto, è stata anche montatrice dei film di Pietro Marcello, fino a Bella e Perduta e ha girato un film di montaggio che ha ritratto da alcuni frammenti del libro di Annie, di Annie Arnault, che ha vinto tra l'altro il premio per il miglior cortometraggio a IEFA. Era il miglior cortometraggio, giusto? E lavorando proprio su questa linea che è anche delle più interessanti del cinema contemporaneo, cioè il fatto che in qualche modo le immagini che ci appaiono sempre di più sono in qualche modo anche repertorio. Il rapporto che si può avere con il montare delle immagini non girate, che negli anni 20 o 30 significava confrontarsi con la modernità, il presente, la velocità, penso alla vanguardia artistica che montavano, era il collage, l'idea di fare il collage, quindi di essere proiettati in avanti. Oggi se invece uno si confronta con delle immagini, inevitabilmente si confronta con la storia, con il passato, a volte con la fisicità, perché c'è anche il dato che chi si trova a lavorare con immagini già girate si trova con due supporti diversi, si trova con una cosa che ha una materialità fisica, la pellicola, e invece si trova a lavorare con un supporto che questa materialità fisica non ce l'ha, che è un passaggio singolare. Prima di darle la parola ricordo una cosa che, quando faccio lezione agli studenti all'università, la prima cosa che chiedo, che è un po' da cinetecaro, io dico, ma voi sapete quanto pesa Roma Città Aperta? Sapete quanto pesa la dolce vita? E loro mi dicono 4 giga, 6 giga, no, io dico quanto pesa fisicamente, cioè la Roma Città Aperta pesa 30 chili, la dolce vita ne pesa 50 perché è più lungo, mentre invece sapete quanto pesa, che ne so, Manc, oppure un film che sia adesso, quello effettivamente non pesa niente, non ha un peso, fisicamente, quello effettivamente pesa al massimo, è in piena risoluzione, non è pesa quei suoi decine di giga, ma non ha un peso. Ecco, il lavoro che si fa, ed è un lavoro che affascina tantissimo le nuove generazioni, i materiali d'archivio, significa anche avere a che fare con qualcosa che ha un peso e ha una storia. Sara Figare, che sta adesso anche lavorando a un lungometraggio, ci arriva proprio da questo percorso di riflessione sulle immagini, che è abbastanza singolare nel nostro panorama. Sara? Sì, allora, buongiorno, intanto io sono molto felice di essere qui, perché è un'occasione anche rara, gli incontri sul montaggio, sono felice anche di parlare per prima, per poi ascoltare gli altri, sono molto curiosa. Il titolo intanto dell'incontro, La solitudine del montatore, mi piace molto, perché è una condizione quasi auspicabile, per quanto poi sia sempre un lavoro fatto ovviamente in stretta relazione con il regista, però mi faceva anche pensare a un saggio bellissimo di Godard, che è il montaggio, la solitudine e la libertà, che è in due o tre cose che so di me, in cui lui dice che il montaggio si incontra al destino, e che è proprio il momento unico al mondo, forse in cui si possiede un momento, come possedere un oggetto, come un posacenere, che è un momento che ha un inizio, un punto mediano e una fine, ed è lì davanti a noi. E forse, pensando a questo incontro, mi sono ricordata di forse la definizione più bella che ho trovato, cioè che restituisce la sensazione che mi fa amare molto questo processo, che è il fatto di trovarti in un luogo dove il tempo non esiste, e al contempo sei al centro delle cose, però è come se in realtà non esistessi, nel senso che sei tu che operi, però è come se la cosa ti accadesse accanto e prendesse vita attraverso di te, che non è mia purtroppo, ma è del mio maestro Walter March, che è un grande montatore, che ha scritto anche un libro stupendo sul montaggio, e quindi dicevo una condizione auspicabile, nel senso che poi appunto questa sensazione che descrive così bene lui è un qualcosa che difficilmente può avvenire in un momento in cui magari c'è un dialogo o si è più di una persona, nel senso che serve poi una concentrazione tale da dimenticare proprio quello che ci sta intorno e di essere così dentro che appunto ci si scorda un po' della realtà circostante. Io ho sempre lavorato in documentari cosiddetti di creazione, in cui il film veniva scritto al montaggio, che ho sempre considerato come un luogo anche dell'inatteso, e anche di scoperta dei materiali. Il montaggio più che tagliare è la scoperta di un percorso. Mi sono sempre capitati film con un grandissimo numero di ore, quindi con un rapporto tra il girato e poi il montato definitivo da 100 a 1, da 600 a 1 nel caso di Maresco. Adesso un film, a questo sto collaborando, 1000 a 1. Insomma, per cui è chiaro che poi più materiale c'è, più percorsi possono essere valutati. In più, nei film che ho fatto in cui c'era anche l'archivio, quello diventa anche un serbatoio enorme a cui attingere. Io mi sono sempre occupata anche delle ricerche d'archivio, in cui in qualche modo è già per me una fase di creazione, in qualche modo, cioè la visione di immagini che seleziono già in modo molto minuzioso. Ecco, in fase di visione tendo già a fare un processo di montaggio in quella fase ed è un qualcosa che mi appassiona molto perché è un qualcosa che può nutrire molto anche il film Strada Facendo. Spesso con Pietro, in lavori che abbiamo fatto insieme, in particolare La Bocca del Lupo, le ricerche sono proprio iniziate dall'inizio insieme alle riprese e ho subito cominciato a montare le immagini. Quindi delle cose che magari trovavo in archivio poi potevano fare da spunto e portarci magari a decidere di girare determinate cose e ovviamente il contrario. Però normalmente mi capita, non mi rapporto mai verso un archivio andando precisamente a cercare qualcosa. Ho delle linee guida generali, poi sono abbastanza sicura nel momento in cui trovo che qualcosa mi potrà servire, però è soltanto dopo in una fase avanzata poi di lavoro in cui magari ho la necessità invece di trovare la data immagine che mi manca per una determinata scena. È più lasciarsi anche, come dire, lasciare aperta la possibilità di trovare qualcosa che non stavo cercando in quel momento e quindi spesso è anche frutto di un caso, cioè non ricerco un'immagine particolare, cioè proprio poi da questo flusso di immagini che mi trovo davanti che magari vengo colpita da una cosa a cui non avevo minimamente pensato. E il caso c'entra sempre tanto, ecco, secondo me anche in questo lavoro. Per gli anni che citava Emiliano, che è l'ultimo lavoro che ho fatto, sono partita da materiali documentari, da film di famiglia della Cineteca Sarda di Cagliari, cercando di intrecciare la storia individuale con la storia collettiva. Cioè individuando nelle storie familiari delle situazioni archetipiche che pur mantenendo ovviamente la loro consistenza storica possono risultare universali e quindi dimostrando come sia possibile raccontare una vicenda di un protagonista e di parlare al contempo della storia collettiva. È stato un processo un po' particolare nel senso che io ho cercato prima queste immagini, ho iniziato a lavorarci sopra e solo dopo è arrivato il testo di Annie Ernaux, quasi per caso, non l'avevo mai letta ed è stata una scoperta, nel senso che lì ho trovato quello che per me era un po' di controcampo ideale rispetto a queste immagini che avevo raccolto. Nel senso che su questo tipo di lavoro con i filmati di famiglia che sono materiali costruiti, proprio strutturati su degli apici. Non ci sono dei tempi morti, devono essere efficaci e questa efficacia spesso nasconde qualcosa. Quello che mi interessa in particolar modo di questi materiali è proprio quello che in realtà non c'è, nel senso che è un po' nascosto tra le pieghe e sono le immagini mancanti, al di là della rappresentazione che vediamo oggettivamente di vita felice, di eventi straordinari, matrimoni, comunioni, nascite, per me è interessante la latenza che hanno queste immagini e quindi non è tanto un gesto di restituzione, quella che si fa poi da cineasti, ma di appropriazione di queste immagini e di cercare di farle parlare in modo diverso e di tirare fuori qualcosa di diverso e quindi creare un controcampo che per me in quel caso è stato proprio il testo di Ernaux, nel senso che riusciva in relazione a queste immagini a provocare delle domande, a creare un conflitto e quindi mi sembrava il controcampo ideale. Però appunto non sono partita con l'idea faccia un adattamento di questo libro, probabilmente sarebbe stata un'operazione molto diversa, un qualcosa che è arrivato dopo e mi viene in mente una frase di una selezionatrice in Francia che quando mi ha incontrato mi ha detto ma come hai fatto, nel senso che hai fatto la cosa opposta rispetto a Ernaux, nel senso lei è partita raccontando la sua storia cioè di una donna dal dopoguerra fino ai giorni nostri arrivando a raccontare una storia collettiva, è definita appunto un'autobiografia collettiva, mentre tu sei partita da tante storie, da tante famiglie, da tanti volti, da tante donne per arrivare a raccontare una storia ed effettivamente non ci avevo pensato ma è stato così però appunto non è stata una cosa premeditata dall'inizio mi sono trovata e progressivamente in un processo diciamo in cui ho cercato di creare una sorta di sia appropriazione come dicevo prima anche di identificazione che è già avvenuta leggendo il romanzo perché è un'esperienza di lettura che va al di là del fatto di immaginare cioè di sentirsi immedesimato in una storia ma proprio sembra che parli di te e quindi ho cercato di andare sempre più in una direzione proprio di sovrapposizione tra le immagini Ernaud le sue parole e me stessa utilizzando la mia voce e anche portando delle parti di testo in prima persona perché in qualche modo per me queste immagini rappresentavano già un noi c'era una pluralità di soggetti e quindi mi serviva diciamo un io che le tenesse insieme e in questo senso mi viene da pensare a qualche giorno fa un libraio a Parigi mi ha detto ha visto il film ed era convinto che fossero fondi della mia famiglia cioè fosse un fondo unico infatti mi ha detto stavo cercando somiglianze e l'ho preso come un complimento nel senso che a me piace tantissimo poi mescolare materiali anche molto diversi e quel film è frutto di diciamo collage il termine che hai usato che diciamo è una forse la definizione migliore con cui definirei il mio lavoro è stato l'unione di un collage di 30 fondi di famiglie diverse poi ho girato io tre bobine ho inserito delle fotocopie animate con parti di me e quindi però l'idea che comunque pur utilizzando tantissimi materiali poi risulti un flusso unico è chiaramente un'ambizione e quindi insomma mi è piaciuta questa questa osservazione mi veniva in mente un'altra cosa riguardo questa dimensione un po' pubblica privata che in realtà ha due cose una è che le immagini d'archivio sono diventate sempre più autonomamente potenti e significative e calde negli ultimi decenni hanno avuto soprattutto nell'interazione con con le immagini non non d'archivio con le immagini girate hanno un'interazione molto forte penso anche a dei film in cui che possono essere di tutti i tipi dal finale di 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 vincere di bell'occhio ma penso anche non so chi di voi l'ha visto una commedia di Francesca Comencini che si chiamava Amori che non sanno stare al mondo in cui esattamente a metà a un certo punto c'era un montaggio di superotto di donne di storie di donne che non c'entravano niente ma che erano in qualche modo spiegavano il film è una commedia sentimentale con una donna come dire un po' buffa che perseguita il suo ex eccetera e poi in realtà a metà queste immagini di donne di 50 mili in qualche modo spiegavano tutto c'entravano ma soprattutto al di là dell'interazione narrativa fanno sempre come dire in qualche modo alzano subito la temperatura emotiva del film cosa che accade da poco tempo cioè è adesso che in qualche modo i film si riscaldano a contatto con un superotto con un patte baby soprattutto questi formati appunto intimi improvvisamente penso anche ai film di pietro a questo non avrebbe avuto lo stesso effetto probabilmente nel 1970 fare una cosa del genere non ti dava probabilmente forse perché adesso invece si tratta di due cose diverse una cosa che ne guarda una lontana diversa e credo sia questo a parte il fatto che molto semplicemente il superotto la pellicola è bella se provi a fare lo stesso lavoro con il videotape degli anni 80 non ce la fai perché sono brutti da vedere cioè per far interagire quella roba lì puoi fare quei lavori un po' curiosi come quello che ha fatto la Rain in No girando in quel modo lì però non hai quell'immediatezza l'altra cosa che mi viene in mente è invece uno strano me lo chiedo rapporto col femminile perché il montatore sempre più quello del montatore è negli ultimi tempi ed è strano che non lo fosse anche prima in realtà uno dei pochi lavori in cui si è lasciato spazio alle donne prima erano forse più quello che sapevano fare era che gli lasciavano gli lasciavano fare era la segretaria di edizione che in fondo è la stessa cosa come diceva una volta con Pietro è la montatrice sul set è quella che comincia già a montare il film la segretaria di edizione e la montatrice sul set e l'altra cosa poi c'erano magari le assistenti al montaggio stavano un po' non proprio le montatrici ma le sistemi oggi sono oggi da una ventina d'anni direi sono molte e questo secondo me non è senza significato e poi credo che questo rapporto mi è capitato di non so partecipare alla giuria dico di concorsi per film d'archivio o lavori in superotto c'è un'attrazione per una particolare dimensione intima diaristica in maniera particolare di guardare alla storia pubblica intrecciandola col privato che attrae tantissimo anche le giovani registe secondo me questo partire dall'immagine è una cosa che fa scattare una scintilla direi molto nelle registe non a caso il film che citavo di Francesco come in cinema quindi una donna ma anche nelle giovani registe e giovani documentariste quando si vede nelle scuole di cinema è una cosa che in qualche modo questo lavoro di mettersi lì a pensare alla storia nel senso della storia con la S maiuscola e a intrecciarlo è una cosa forse che ecco forse si può tornare agli origini del cinema quando le donne erano quelle che scrivevano e montavano i film prima che il cinema diventasse una cosa troppo importante per le donne e quindi le facessero fuori penso proprio alle origini del cinema sì c'è anche da dire che appunto in questo tipo di materiali poi sicuramente le donne sono molto rappresentate nel senso che appunto mi è capitato proprio per il lavoro di cui parlavo prima quando sono arrivata a Cagliari la prima cosa che ho chiesto è se all'interno di queste 9000 bobine digitalizzate ci fossero dei fondi di donne e la risposta è stata no mi ha un po' colpito poi di fatto andando a vedere non è esattamente così però diciamo i nomi catalogati erano tutti maschili perché molto spesso appunto sono immagini girate da da uomini dal marito dal padre e e quindi in cui sono rappresentate tantissimo figure femminili poi nei fondi uno si rende conto che magari poi c'è un passaggio di mano e che quindi cioè che magari erano anche poi le donne a girare rispetto a questa pratica come pratica femminile io lo leggo così a un qualcosa che mi ha sempre appassionato ma fin veramente da piccola cioè che è proprio la pratica del collage che ho sempre amato e quindi in questo mi sento fortunata a fare un qualcosa che mi faceva felice quando ero piccola e continuo in qualche modo a farlo ecco sicuramente gli archivi in questo senso sono una fonte inesauribile di materia insomma su cui su cui lavorare rispetto al discorso della figura del montatore sì ci sono tante donne sempre è stata un'attività un po' di tagliacuci non saprei dire perché però effettivamente sì è un campo anche perché magari avendo poi delle vite familiari la cosa più semplice che potevano fare piuttosto che andare sui set molto banalmente forse anche quello ma credo che sia cominciato proprio per il taglio ai cuci della pellicola cioè dal fatto che dal taglio del negativo che aveva bisogno di una precisione molto simile a quello della sartoria insomma tagli e incolli deve essere fatto a cinecittà io ho cominciato con l'analogico con la pellicola era il il reparto era femminile con sì però Carlotta è verissimo nei laboratori scusate nei laboratori era così però fino all'avvento del digitale il sarto era maschio il montatore era maschio appoggiato dalle figure femminili e questo un vero cambio c'è stato secondo me con l'arrivo delle nuove tecnologie insomma proprio per avere delle colleghe montatrici in ruolo no diciamo quello sviluppo c'è il couturier e le sartine però penso sia stato agevolato da questo cambio tecnologico ecco questo perché è arrivato Giorgio Diritti l'avrete già visto Paolo Cotignola appunto questo mi interessava e poi ti volevo chiedere delle altre cose ma poi questo salto sì è un mio almeno una mia constatazione rispetto a quello che ho visto anch'io ho fatto diciamo un passaggio per la mia età si capisce dalla pellicola al digitale insomma per cui ho lavorato fino a circa 30 anni in Moviola e ho vissuto direttamente questa cosa cioè c'erano moltissimi assistenti come dice bravissimi con una capacità di montaggio secondo me spesso superiore al loro capo però le Moviola diciamo degli stabilimenti a Roma c'erano quasi tutti uomini trovavi raramente diciamo un montatore in capo diciamo donna e il discorso che dici tu del cambio che la soluzione la società si evolve si evolve anche perché una generazione secondo me di montatori diciamo maschi di una certa età non ha mai voluto fare un cambio tecnologico non è riuscito a fare un cambio tecnologico quindi c'è stato come dire non vorrei dire un azzeramento ma un forte dimezzamento ecco di questa come dire platea di montatori per cui insomma c'è stata la possibilità di farsi valere ecco è stata un'occasione io sono di quella generazione lo so ti conosco bene quindi lo so bene però ecco questo però quello che voglio dire c'era comunque una vicinanza con quel reparto mentre la fotografia chiaramente era il set quando trovavi un uomo in un laboratorio magari ti venivano dei dubbi che non facesse bene no no ma non sto scherzando erano luoghi comuni sì 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 mi interessava questo passaggio perché Paolo Cotignola ha fatto la fotografia di molti film di Armando Olmi di Carlo Mazzacurati prima di lavorare con Giorgio De Riti e ha lavorato quindi agli anni 90 in piena stagione dell'analogico quello che voglio dire sia stato un cambio ormai ampiamente digerito e storico però è stato un cambio importante anche nella visione dei film probabilmente cioè già il fatto di non avere non vedere il film come una strada davanti a te qui deve giungere un mattoncino a volte ma spazializza come se la vedessi dall'alto in cui tu puoi spostare i mattoncini quello che sia stato importante quanto nel rapporto con i registi quanto questa cosa è stata recepita quanto loro l'hanno saputa e interagendo con voi vivere in maniera cioè ti ricordi quando questa cosa è successa no credo sia stato un cambiamento epocale è cambiato me lo ricordo benissimo ed è stata una grande occasione anche per me cioè nel senso che io avevo una trentina d'anni quando diciamo si è cominciato a lavorare in maniera molto molto intensa con i primi sistemi di montaggio non lineare avevo un'età ancora giusta per fare questo passaggio cioè chi aveva dieci anni più di me ha fatto molta fatica a fare questa transizione ma direi che per un autore per un regista non è così importante vedere cosa succede diciamo sul tavolo ma capire che cosa succede nello schermo però anche per loro vedere come dire perché la differenza non tutti sono specialisti tra il vedere il film che scorre e incollare e vedere anche come dire i pezzettini del film in qualche modo come come vedere lì non è un cambiamento no certo c'è una fisicità della materia che non è più ovvio questo è chiaro però e alcune cose quindi proprio un discorso tattile poi ce n'era un altro che adesso è risolvibile assolutamente in altro modo con le tecnologie che abbiamo però la cosa che si poteva fare quando si lavorava in film è che da un'ora all'altra o poco più andavi a vederlo in un cinema film cioè avevi una coppia lavoro tutta scassata aggiuntata con lo scotch eccetera eccetera però tu vedevi film qui nel digitale prima di arrivare a questa cosa sono passati degli anni possiamo fare adesso ecco adesso lo possiamo fare cioè nel senso che quello che esce dai nostri scatolini lo puoi proiettare ad una certa qualità e comunque insomma passando attraverso i laboratori abbastanza rapidamente ha una qualità anche definitiva questa era una gran differenza perché ti portava nel rapporto diciamo con quello che lo spettatore vedrà anche se era in maniera grezza il suono era quello che era lavoravi con poche tracce avevi solo la presa diretta un po' di musica qualche effetto che muovevi così con un mixerino però insomma questa era una gran differenza quello che posso dire che è successo a me è questo che se tu diciamo hai vissuto quel quella cosa che dici tu no? delle fotografie uno dietro l'altro te la porti dietro tutta la vita cioè io anche quando sono lavoro con L'Avido Premiero quello che è per me l'immagine è quella lì cioè quando io non so mando veloce un materiale io anche su L'Avido lo mando veloce non faccio tatataratatata perché in Moviola facevo così lo guardavo a 3-4 volte alla velocità perché tu a 3-4 volte alla velocità le vedi le cose se tu vai a scatti ci sono delle cose che tu non vedi quindi il tempo che tu usavi per recuperare un rullo, rimetterlo in testa si diceva, o in coda era un tempo in cui se volevi andare a fumarti una sigaretta, anzi te la fumavi lì perché si poteva se no tu stavi lì e guardavi guardavi questa cosa che andava avanti e indietro e mentre guardavi pensavi, capivi se c'era qualcosa che ti serviva, facevi anche delle scoperte di qualcosa che magari ti poteva essere utile in un altro momento e te la mettevi da parte questo è una forma mentis direi è una cosa che se tu ce l'hai e secondo me la si può formare anche oggi, anche se non hai mai visto un metro di pellicola le cose le devi guardare profondamente ecco, questo è questa è una cosa molto effettivamente poi mi viene in mente le sale di montaggio erano luoghi dove si fumava molto c'erano certe mogliore che avevano il buco per metterci il portaceto è una professione da fumatori inevitabilmente perché aveva quei tempi morti e ricordiamo che questa cosa qui che stiamo raccontando è anche quella fase intermedia in cui il montaggio è stata la prima e per lungo tempo l'unica fase digitale perché il film è girato in pellicola montato in digitale proiettato in pellicola e ritornava in pellicola e ritornava quindi c'era soltanto questa fase qui poi adesso in realtà è tutto filato come dire direttamente questo è questo che anche permette di vederlo un'altra domanda tu invece adesso è passato so che per esempio stai montando in remotissimo adesso non solo per il lockdown ma questa è una pratica credo che si diffonderà inevitabilmente sempre più quello del montaggio a distanza io sono certo di questo poi insomma ognuno poi sceglie anche tu stai già dicevo Gianluca io sì anche perché io vivo io vivo in un posto cioè che dove la parola remoto è proprio io vivo ad Asiago in provincia di Vicenza quindi sono in un luogo remoto e per cui usare diciamo questi sistemi per me è un grande un grande vantaggio ecco poi è chiaro che che probabilmente adesso sono più adatti credo per la mentalità che abbiamo a operare su un cinema un pochino più industriale direi dove le cose sono più programmate copione solido una storia più semplice mi verrebbe da dire io sto facendo un film di questo tipo al momento però il sistema tecnologicamente è molto molto avanzato e se non è un cambio tecnologico simile a quello tra pellicole digitale io che l'ho vissuto dico non ci siamo lontani a questa cosa perché è veramente la possibilità di comunicare in rete a molto alta velocità ti dà delle potenzialità e questo non lo dico io perché diciamo come vi ho detto sono come dire avvantaggiato in qualche modo da questa cosa è una cosa che sta succedendo moltissimo negli Stati Uniti io ho diversi contatti con colleghi che mi hanno poi insegnato loro a lavorare in questo modo ho avuto da loro queste informazioni e sì non so non vorrei fare magari fare dei nomi però molto se uno ha la possibilità proprio anche dove vive di avere una stanza come un po' il suo studio un po' il suo ufficio moltissimi montatori ma i lavorano da casa da casa o in uno studio anche distante da dove il regista la qualità è sorprendente perché praticamente dal posto dove tu monti mandi uno stream no a chi lo riceve che ha la qualità di Netflix diciamo più hai degli schermini come zoom dove i partecipanti si vedono e dico all'inizio ero veramente frastornato anch'io da questa cosa poi la qualità è molto alta e devo dire che alcune cose ripeto se insomma c'è una divisione dei ruoli precisa e non c'è il bisogno di parlare di più di quanto tu monti perché in certi film tu parli più di quanto lavori a volte nel senso che hai bisogno di capire che strada prendere cosa devi fare sbagliare rifare però per esempio io ho avuto questa esperienza che lavorare con un regista che in cui posso guardarlo in volto mentre io gli faccio vedere una cosa e mi sono reso conto che prima non era così io guardavo o era dietro di me o al limite vedevo metà della sua faccia che era qua io intanto mentre facevo vedere una cosa mentre facevo vedere una cosa e non guardo mai il regista guardo anche io quello che si guarda se tu fai una cosa così e la fai vedere tu sai già che l'hai già vista tu guardi che hai un riscontro abbastanza onesto di quello che hai fatto e se non ovviamente anche chi è dall'altra parte non è smaliziato e finge devo dire che secondo me è un'esperienza nuova siccome è molto diretta non ha latenza è molto rapida io ripeto per me è una cosa che si adatta abbastanza per certi lavori e credo che andando avanti anche se magari a qualcuno non piacerà lo capisco ma sarà almeno per parti di lavoro è chiaro che se tu devi poi fare un ragionamento con il regista devi parlare devi discutere fare delle prove devi vederti comunicare di persona con lui mi immagino soprattutto le fasi finali di un lavoro andare in proiezione vedere modificare però per altri lavori per esempio mentre si monta mentre un regista gira io lo trovo un sistema fantastico per rivedere assieme delle cose ad esempio non so se ci sono su questo se volete inserirvi perché come dire è storicamente provato che le cose che avete da dire voi sono più intelligenti di quelli che vi chiedo io quindi nel caso intervenite già subito io poi ho delle cose da chiedervi una piccola apostilla diciamo filosofica su quanto si è detto prima rispetto al materiale d'archivio c'è un gruppo di artisti contemporanei che sono olandesi che hanno teorizzato poi chiudo lì e poi parlo di un'altra cosa volevo dirla perché è interessante hanno teorizzato la saturazione delle immagini nel mondo contemporaneo non so se sentite bene scusate cioè che viviamo in un'epoca in cui c'è un'eccessiva saturazione che porta a una sorta entropia del sistema dell'immagine questo è dovuto anche al alle nuove tecnologie ai social al fatto che i nostri telefoni sono pieni di fotografie su fotografie e in qualche modo tutte queste immagini arrivano a disinnescare alla loro profondità e come ricerca hanno recuperato non immagini d'archivio o found footage come viene detto e così via ma fotografie diciamo quotidiane personali delle varie famiglie e le espongono come a dire esiste anche una possibilità dell'ecologia dell'immagine per cui noi vi restituiamo fotografie familiari di persone che la cui vita non conoscete ma almeno vi concentrate sulla profondità sul tempo e la storia che queste immagini hanno significato mi chiedo se questo aspetto purtroppo non mi ricordo il nome di questo gruppo di artisti possa anche aver innervato l'immaginazione dei giovani registi e registi di cui abbiamo parlato a recuperare materiali d'archivio per decostruirle forse e riattivarle semanticamente in un'altra forma sarebbe interessante se in un momento in cui le immagini ci stanno sovrastando e perdono il significato recuperare il tempo e la forza semantica di immagini del passato per restituire una nuova visione del cinema to cure sarebbe bello se fosse così è un'ipotesi mentre Sara stava parlando chiudo riguardo le nuove tecnologie si è vero ultimamente almeno a me capita spesso credo quasi a tutti di avere un momento estremamente solitario che è il momento in cui si inizia a premontare il film durante le riprese è una faccenda che io personalmente anche non farei mi piacerebbe che fosse possibile iniziare a montare direttamente con il regista alla fine delle riprese cioè credo che il modo migliore per montare un film in assoluto sia aver visto tutto il materiale girato un bel po' di volte elaborare in testa una sorta di architettura formale che nella tua idea nella tua testa può avere un senso ragionarla insieme al regista prendersi tempo tempo per fare le cose tempo che manca sempre di più e quindi è il problema che molte decisioni che fai anche a livello formale quando inizi un film sono spesso in solitaria e comunque quelle decisioni per me rimangono decisioni che in qualche modo segliano il tessuto formale del film cioè tu fai prendi da un lato la tua autorevolezza o la tua autorialità prende più senso perché sei davvero solo e fai scelte importanti e scegli in ogni ambito della 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 narrazione scegli un passo un'idea che probabilmente hai ragionato con il regista prima delle riprese a volte le riflessioni che si hanno con i registri prima delle riprese non necessariamente riguardano dei film di riferimento ma delle aree culturali di riferimento possono essere dei dipinti capito è molto interessante quando in realtà fai qualche esempio dai no no posso fare no ma non del cioè beh non lo so cioè mi ricordo un film in cui fu citato Gernica cioè mi ricordo un film in cui il naturalismo di Luigi Ghirri era cioè bello o la musica o è bello quando se ti serve un elemento poi tu leggi una sceneggiatura e restituisci al regista la tua visione che può essere aderente o meno e poi gli dici ma questo film potrebbe avvicinarsi a Shostakovich e poi c'è immediatamente un momento in cui si prende una pausa e ci si tride sopra come appena fatto perché è giusto che sia così però se si ha una mentalità una mente abbastanza aperta di capire nei rivoli di questa affermazione che ci può essere l'idea di un'impronta formale del film sarebbe molto bello non sempre così però è una cosa che a me è capitata e dicevo si rimane molto soli perché necessariamente in questo momento si deve fare per ragioni esclusivamente produttive cioè io quello che ho appena detto mi piacerebbe vedere il film prendermi tempo vedere tre volte il girato tutto il girato non solamente cosa è stato chiamato su set come buona o riserva o scarto ma tutto il girato sarebbe secondo me l'ideale l'ideale poi il regista può iniziare insieme a lui e può darti anche pause in cui puoi chiedere al regista senti questo tipo questo momento questa sezione della narrazione è meglio che la faccia da solo perché ho un paio di idee non te ne voglio parlare ci vediamo fra tre ore e mi è successo in passato mi è successo con il divo con Sorrentino alcune cose non le riuscivo a spiegare secondo me poi la come dire la qualità intrinseca del cinema quando lo si definisce puro è che la forza espressiva o di una sequenza o di una sezione di narrazione o anche semplicemente di un taglio è indicibile cioè una forza insondabile che che non è spiegabile a parole prosaicamente si può dire funziona oppure qui dentro c'è per me un'intera teoria che il regista con cui ti confronti o sono illuminati o ti guardano con un pochino di disprezzo perché questo succede no succede ma se funziona se funziona se questa cosa è espressiva ha un senso ha una sua logica allora va bene capito cioè qualsiasi sia la montagna di riflessione che tu hai fatto alle spalle di questo approccio quindi adesso io credo che la gran parte di decisioni che si prendono in montaggio in cui si decide il passo di un film in cui si riflette sulla condensazione del racconto la sua espansione in cui quando si decide che una scena che dovrebbe durare un minuto la si può condensare in sette secondi spesso è una decisione che pertiene al montatore non è più e poi tu la fai vedere e normalmente spieghi qual è stato il concetto che ha il percorso artistico che ha portato a quella decisione poi puoi scontrarti quando ti scontri e il regista non accetta nulla delle tue riflessioni è molto frustrante però è giusto così Sara prima citava Walter March che in questo libro non so se ti riferivi a un batter d'occhi si parla di una fa una metafora tra inserisce la prospettiva clinica nel rapporto tra montatore e regista che è interessante cioè quella della psicanalisi il lettino è il medico e sostiene che il rapporto tra regista e montatore a volte è di questo tipo ovvero il regista è il paziente che è esaiato sul lettino e racconta il proprio sogno al montatore che lo deve in qualche modo interpretare molto bello è interessante poi dice a volte però c'è un'inversione a volte è il montatore che si siede sul lettino e racconta al dimmi se è letterale quello perché magari potrei sbagliarmi vabbè meglio ancora se la stai inventando è meglio per una riflessione e il regista in quel momento è l'interprete del sogno del montatore oppure la visione riattualizzata in chiave semantica o forse semplicemente strutturale di quello che ha visto questo tipo di rapporto nel cinema contemporaneo in cui il montatore è sempre più isolato soprattutto in una fase molto lunga cioè a dire il regista è più di quasi tutte le volte ormai arriva cioè vede parte a me succede sempre così non so a voi inizia un film o con un regista conosciuto o anche sconosciuto uno di questi registi è seduta lì si chiama Michele Occhipinti stavo dicendo questo la vedevo ridere Michele Occhipinti che è stata paziente o analista di Cristiano e io a un certo punto inizi a montare delle sequenze del film che il più delle volte si trovano a centro film e anche questo come sarebbe bello se vi fosse girato in sequenza sarebbe secondo me molto meglio però non è possibile sempre per ragioni produttive e ti confronti e dici questo è più o meno quello che secondo me potrebbe essere il giusto passo la giusta messa in scena del film cosa ne pensi il regista si confronta con te decide di darti indicazioni oppure più delle volte dice mi sembra interessante vai avanti cioè no e tu rimani isolato davanti a questo mare magnum a questo specie di horror vacui per cui ma sarà stato sincero semplicemente era troppo impegnato poi la fase delle riprese è talmente stressante talmente logorante per il regista che questi appuntamenti si direzionano sempre di più sempre di più sempre di più al che ti puoi vederti solamente il weekend perché a volte il regista il weekend deve riscrivere la scena o la girare il lunedì e così via il più delle volte arriva in moviola e vede il film che ha girato montato fino a quasi la fine quindi insomma il peso e l'autorità delle tue decisioni hanno una responsabilità che non ti fa dormire la notte perché dici se avessi sbagliato tutto cosa che ancora i film io ho anche compensato e quindi lì questo rapporto paziente e tu sei tornato non abbiamo come se le sedute di analisi per ragioni te le sei fatte da solo e lui arriva alla fine e gli devi presentare il conto in qualche modo quindi è e questo accade sempre più spesso sempre più spesso perché la possibilità di poi arriva in questa fase che chiamiamo premontato e si comincia davvero almeno dal mio punto di vista a montare cioè c'è il regista si comincia a riflettere il più delle volte se casualmente decidi di tagliare qualcosa per esempio delle a me è capitato di tagliare per esempio delle delle porzioni di dialogo perché non le ritengo importanti dicendolo prostrato dicendo guarda secondo me dovresti vederlo così poi esiste anche la sequenza con quel dialogo cioè le faccio entrambe da lì si riflette sul passo del film e il film si cambia quando si lavora a due però ripeto la tua immaginazione la tua cultura il tuo talento comunque il tuo approccio sta acquisendo sempre più decisività centralità nel processo di montaggio di un film quando sei il montatore e non sei co-regista e così via quindi questo ci dà più forse più divertente cioè nel senso che comunque sia allo stesso tempo autorevolezza è grande terrore perché poi vi faccio un esempio molto semplice l'ultimo film che ho montato è stata la mano di Dio di Sorrentino in cui accadono io non posso dire nulla perché il film è ancora uscito accadono le cose che io chiesi a Paolo questo film lo montiamo insieme mi vedo il girato mi faccio un'idea però non voglio farlo da solo per ragioni che capirete quando vedrete il film si sa di cosa parla quello sul giornale è uscito di cosa parla il film però perché certi momenti che sapevo essere molto importanti nella sua biografia perché li conoscevo bene li conoscevo da anni io non riuscivo ad approcciarli perché se devi decidere il tempo di una sequenza in cui muoiono i tuoi genitori il film parla di quello della morte dei genitori di Sorrentino si crea attorno a te una una posizione davvero pesante e poi c'è un momento in cui gli fai vedere quella sequenza e quindi e lì ho pensato invece lui a un certo punto ha deciso secondo me proprio per staccarsi da una cosa ha detto no fallo tu dammi tu la tua interpretazione quindi da quel punto di vista lì è andata bene perché il processo creativo era basato su una teoria importante che era io devo staccarmi da quello a cui sono affezionato o da quello che mi terrorizza tu sei la testa di ponte che mi permette di arrivare a vedere questa cosa e anche a restituirmi le emozioni in cui si commuove lui stesso cioè lui si è commosso più in scene ma in alcune scene che erano molto più solari si è commosso ed è una cosa cioè il problema era la responsabilità tua cioè che accidenti io sto entrando in in un rivolo così intimo così profondo che non posso permettermi distrazioni non posso permettermi di questo è un caso è un caso ovviamente estremo non ci sono non è sempre così però insomma non so se ho detto più o meno quello che volevo dirvi rispetto al rapporto con i registi insomma e che la solitudine quindi questo sta venendo fuori l'abbiamo buttato un po' lì questa cosa la solitudine del montatore ma è venuta fuori in vari lockdown e non lockdown sia geografica sia per questioni di tempo Carlotta non so se anche tu volevo dire una cosa che questo ruolo appunto che si ha lavorando da soli perché bisogna correre quindi durante le riprese si lavora si premonta è cambiato anche dal momento in cui ci sono più mezzi tecnici con la tecnologia appunto di oggi ci sono spesso due o tre macchine che girano una scena e questo fatto nasconde un pochettino il punto di vista del regista perché comunque diciamo si creano come delle coperture che non parlano direttamente di come vuole la scena il regista perché da una parte lui l'avrebbe girata così però si sa mai siccome adesso si può copriamoci anche con facciamo direttamente il controcampo oppure vediamo se da là e quindi diventa ancora più da interpretare per il montatore adesso io spesso lavoro con registi con cui mi conosco molto bene ma capita che non capisci esattamente o che comunque la seconda camera ti dà l'occasione di tagliare dove trovavi una difficoltà non so c'è uno scossone allora vabbè stacco un attimo vado di là e questa cosa è una fregatura totale perché quando c'era adesso al di là dell'analogico ma comunque anche solo una macchina magari quello scossone diventava un'occasione in cui si sente appunto l'autore perché è messo in difficoltà dal punto di vista perché o comunque respira il cinema invece adesso tendi a staccare e almeno io faccio così nel senso che nella fase di premontato cerco di andare veloce per avere un po' l'idea di cosa ho davanti per poi ricominciare chiaramente e quindi poi di decostruire quello che ho premontato e di ridargli un respiro che sia quello più giusto cioè poi io spesso lavoro magari in film in cui c'è meno trama e più personaggi personaggi in un luogo e quindi la ricerca del montaggio va un po' a costruire la trama perché va a costruire il personaggio come si trova e c'è mi capita sempre di più di dover decostruire quello che ho fatto ma questo c'entra anche secondo te la maggior possibilità di girare offerta al digitale anche la quantità non solo il tipo dice proprio il fatto che tu la quantità perché comunque un girato che è fatto con tre macchine dura tre volte di più cioè la scena ma dicevo anche il fatto del passaggio che non è più la pellicola non costa e quindi costa però costa meno e comunque si può fare e quindi ha anche un aspetto positivo perché un dialogo girato con due macchine chiede a entrambi gli attori di essere veramente dentro magari mi ricordo insomma ogni tanto succedeva che nel controcampo la quinta era di un altro perché tanto l'attore era andato via adesso gli attori e quindi poi quel materiale lo riusi in un altro modo c'è pure l'attore che non era in campo in quel momento era più svuotato cioè non non riusciva a interpretare veramente quindi anche i piani di ascolto e le reazioni non erano esattamente forti con due macchine è diverso sì quella è una cosa positiva in realtà è una cosa positiva è vero adesso questo nel dialogo poi invece in alcune cose secondo me è più difficile trovare proprio il punto rafforzare un punto di vista ecco perché hai una facilità all'inganno farti un po' fregare da tutte le possibilità che hai invece che tenere le redini diciamo forti ecco io passerei adesso a Giorgio Diritti per poi magari facciamo un secondo giro di risposte tra noi Giorgio Diritti appunto ha questa particolarità quasi unica abbiamo detto di essere stato prima montatore poi comunque comontatore dei suoi film e volevo chiedere se appunto all'inizio è stata una necessità o da subito una scelta importante perché è una cosa rara soprattutto magari con i primi film uno tende a cercare l'appoggio di professionalità sperimentate solide eccetera e invece volevo capire questo tuo rapporto se senti che sia un rapporto particolare rispetto agli altri leggisti se è una cosa che ti è venuta proprio semplice spontanea di essere non solo quello che filma ma anche quello che monta poi che comunque continua a comontare diciamo così il film ma diciamo che sinteticamente potrei esprimere come dire il rapporto di materialità anche se l'immagine ormai è spesso immateriale eccetera è qualcosa di molto forte a cui ho desiderio di restare attaccato in un certo senso questa è la versione diciamo più poetica che quindi mi fa sì che ci sia questo discorso anche di creatività amo tantissimo anche la tra virgolette creatività e montaggio poi tutto questo però nasce anche da da una dimensione così di evoluzione in cui ho avuto Paolo tantissimo io poco la possibilità di stare in montaggio con Ermanno su un lavoro di un'altra persona eccetera ho avuto anni fa per una serie di coincidenze la possibilità di girare il mio primo diciamo docufilm cioè nel senso che era sia finzione che anzi principalmente finzione però su una costruzione quasi da documentario e non però in quei tempi si girava addirittura in betacam o forse addirittura in bvu cioè con elettronica con dei sistemi che non permettevano di fare un montaggio come quello di pellicola cosa che veramente era ingestibile questo meccanismo l'ho smontato andando per sbaglio alla fiera di Montreux dove presentavano le nuove tecnologie prendendo un caffè con quel signore che poi avrebbe importato gli avidi in Italia questa cosa ha un po' cambiato il mio percorso nel senso che da lì ho convinto questo omino simpaticissimo a portare ad armi per montare questo lavoro per un mese e mezzo forse due non mi ricordo questa macchina che poi appoggiamo a ipotesi cinema su Abbassano che poi usò un po' anche Ermanno anche Paolo tutti quanti si creava ovviamente un grande interesse su questo che era uno dei primi sistemi avid dove i monitor erano 14 pollici no 20 forse e dove c'erano soprattutto io ricordo io soprattutto questi adesso si sorride su queste cose fanno un po' così quasi storia però c'erano questi hard disk a cassetto da 2 giga e 4 giga che erano degli scatolozzi così poi c'erano 9 giga e sembravano chissà cosa rispetto alla quantità di terra che oggi si gestiscono tutto fa un po' sorridere però al di là di queste cose un po' da pionieri sono stato diciamo forzato da questa tecnologia a imparare il montaggio digitale da lì in questo percorso e nei primi lavori che ho fatto l'essere padrone del mezzo mi ha fatto diventare come dire più partecipe e costruttore delle cose che facevo è qualcosa poi non so ci sono registi che hanno una grande passione anche per le ottiche la macchina da presa fanno io su quello non ho mai avuto una grande malattia invece il montaggio mi sembrava una cosa mi è sembrato sempre una cosa magica perché il cambiare la sequenza delle immagini l'andare a prendere quella scena che l'hai in fondo metterla prima anche uno sguardo una parola le cose possono dare un respiro ogni volta differente al film e in questo anche la spazzatura tra virgolette cioè le cose sbagliate prima voi citavate il discorso dell'attore che è diciamo di spalle quando si girava con una macchina sola io so di aver usato certe volte proprio quell'audio più scarico nel senso che era meno enfatico magari l'ho montato cioè quindi in questo come dire la dimensione del girare a una macchina secondo me è quasi sempre la preferita salvo condizioni generali tornando al rapporto con il lavoro poi nel percorso ho sempre però anche sentito a un certo punto siccome mi trovavo ad essere sia quello che sta sul lettino che l'analista e in certi momenti scendi sali la testa poteva anche andare in tilt allora diciamo che a un certo punto sovente ho chiesto verso fine lavorazione ad esempio uno sguardo per asciugare non so questo è successo con Paolo Marzoni Sbrango eccetera per esempio ho lavorato anche assieme nell'ultimo film in particolare ma però in una costruzione completamente diversa poi con Paolo cioè nel senso che lì siamo tornati alle origini cioè a un discorso in cui lui ha visto il materiale abbiamo lavorato costruito eccetera poi a un certo momento perché il film a mio avviso in certi nodi in certe cose aveva bisogno proprio di creatività anche ci siamo messi anche a lavorare su due avidi diversi poi ci dicevamo wow questa cosa cioè è stato anche molto divertente all'inizio un po' un po' così no perché insomma però è una cosa che ha secondo me ci ha rafforzato anche nella convinzione delle cose perché come veniva citato prima tante volte c'è un dialogo ma poi uno le parole sono una cosa quello che si vede fa la differenza proprio nell'emozione cioè il nostro lavoro in generale è un lavoro che è racconto è emozione se queste cose passano ci sei però dire guarda metterò prima questa poi quest'altra poi mettiamo la musica che sale lì eccetera uno può immaginare ma insomma deve vedere quindi tanto più se sei in un momento in cui c'è una volontà di così di rimettere in discussione le cose di ripestare di ribaltare eccetera il lavorare anche in questa cosa è stato un arricchimento per me del film cioè perché poi quello che conta è sempre quello lo dico io è riuscire a farmi il film migliore possibile e su questo tornando un po' indietro l'esperienza e il montaggio mi ha aiutato tanto a capire quanto è prezioso quanto diceva lui prima cioè là il guardare il materiale tanto cioè pur avendolo girato in teoria uno dovrebbe essere ancora come dire padrone no ma invece no perché ci sono cose sensazioni avanzi pezzetti dopo il stop scusate uno ha veramente una vastità di piccole sfumature cose che magari diventano fondamentali cioè io ricordo di aver preso nel vento di aver montato molti piani d'ascolto di questi che non erano autori eccetera che io rubavo dal prima di direzione cioè io stavo lì questi stavo lì in realtà perché volevo che si rilassassero eccetera ma poi molti di quegli sguardi lì di quelle sospensioni che erano un po' come dire adesso cosa devo fare ecco io quella roba lì poi l'ho ripresa l'ho rubata anche quella sì 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 cioè quindi sono cose cioè che io penso che questo sia il bello il montaggio se vuol dire penso che il montaggio sia forse una delle esperienze più magiche e belle del cinema cioè di tutta la filiera produttiva perché sì è bello girare ma c'è sempre un grande stress invece lì c'è un momento proprio di secondo me di grande magia poesia è proprio il momento in cui dopo dopo diciamo il progetto architettonico arrivi veramente a costruire la sostanza e questo sì purtroppo adesso mi inserisco a casaccio poi scusate sono arrivato tardi ma c'era la maratona a Bologna quindi strade bloccate la il fatto di girare a più macchine a mio avviso ci fa perdere qualcosa fa perdere in generale qualcosa perché va benissimo in senso industriale però non so nei diversi campi tante volte c'era e c'è sia a livello di ripresa la possibilità di modificare cambiare inventare è bello se a mio avviso poi cerco di girare così nell'ambito di ogni c'è qualcosa di un po' diverso perché lì allora anche il montatore si trova delle variabili diverse le può giocare c'è un momento in cui può alzare il tiro della tensione può abbassarlo eccetera se sono tre macchine che fanno la stessa roba quello è grazie a rivederci diventa un rischia rischia poi hai meno vastità di opzioni chiaro che poi nella vastità di opzioni vuol dire mettersi lì avere il tempo ecco la magia fondamentale per tutti credo sia difendere in tutta dalla filiera della produzione dalla scrittura fino alla stampa dell'ultima copia il tempo cioè la cosa che a mio avviso difende la qualità è il tempo il tempo per tutti non che sempre diciamo puoi fare una settimana in meno quello ci serve per ieri cioè questo penso che sia un qualcosa che spesso impoverisce soprattutto un certo livello di cose che non sono insomma comunque spesso i registi mi dicono che al montaggio sono felici che il momento felice della lavorazione del film è il montaggio non solo perché è quello in cui poi hai meno imprevisti nel senso che alla fine il film in qualche modo ce l'hai però lo devi ancora fare quindi è bello sapere di avercelo doverlo ancora fare però spessissimo è il momento felice in cui davvero mi invento il film sulle macchine da presa è una cosa che tra l'altro adesso è considerata quasi una cosa un po' chi ha più macchine da presa una cosa anche un po' virilista chi ce l'ha chi ce l'ha chi ce l'ha chi ce l'ha di più spesso il capitolo mi dice no ma hai visto quella scena la girata con 12 macchine da presa allora però muoveva un bicchiere quelle cose soprattutto nelle scene d'azione non vale come al sud si usava di dire che quando c'erano dei vini sapete che le vigne in Sicilia in Calabria sono questo vino 18 gradi ha capito mica si misura così a chi ha la gradazione più alta o a chi ha più macchine da presa insomma era un po' a volte mi è sentito di dirla anche per come una cosa di stima non so se avete qualcosa altro da dire mi vengono sempre della curiosità un po' degli esempi cioè parlavamo adesso del reinventare il film al montaggio Sara diceva all'inizio ovviamente di scriverlo al montaggio è capitato invece proprio questo ma se vi dovesse un momento appunto di parlando della solitudine della felicità anche un po' del montatore il momento o un film in cui col regista c'è stata questa cosa di reinventarlo insieme diversamente da com'era e di esserne particolarmente cieco questa volta che ho fatto proprio abbiamo fatto sta cosa e ci è venuta così se vi dovesse venire in mente un film o un momento in cui questa cosa è venuta fuori tutelando la privacy del montatore e del regista si intende no mi viene in mente beh tu hai detto non ci sono imprevisti invece gli imprevisti sono previsti nel senso che quando ce l'ha messa in fila quasi mai va tutto bene cioè devi ripensare proprio le posizioni delle scene comunque non c'è rimedio sul set il rimedio lo devi trovare perché in qualche modo lo devi trovare no mi è capitato ultimamente di lavorare non si dice con chi con una persona che voleva veramente spararsi dopo aver visto il premontato dicendo ho sbagliato tutto gli attori hanno quell'età io avrei dovuto prendere dei giovani e io avevo seguito cioè ero molto appassionata del film e la sua richiesta era di c'era una mancanza di riflessione nel protagonista e non c'era il materiale insomma disastro e gli ho detto beh prima di buttar via tutto comprese le riprese lasciami ma proprio poco perché era una di quelle rare volte in cui avevo proprio l'idea gli ho detto lasciami un giorno vieni domani la solitudine del montatore ogni tanto è necessaria perché avevo questa negatività totale cioè se non va bene neanche l'attore che hai scelto che posso fare qua io cioè è finita e e di riuscire a ribaltare la situazione in un giorno beh è stato proprio bello è stata molto contenta nel senso che a volte capisci che il tuo sguardo è pulito dalla dalla fatica di tante scelte fatte da lui che li pesano che forse non sono del tutto state autonome ecco e vedi un'altra possibilità insomma come è normale ogni tanto ti devi spostare lasciare agli altri che ti dicano guarda che è bello ed è successo proprio così e questo si diceva in questo caso mi sono venute un pochino in aiuto le due tre camere con cui diciamo ho inventato una sequenza di proprio con gli scarti che avrei avuto comunque con una macchina andandogli a cercare diciamo una delle cose che sono molto cambiate è l'accessione quanto sono accessibili le immagini del film perché quando lavoravamo in Moviola vai a cercare un'inquadratura in cento pizze poi io facevo l'assistente me lo ricordo bene il peso di sposta dove è quell'inquadratura in che rullo è adesso hai una grande facilità a rivedere le immagini che è un limite nella riflessione ma quando hai in mente appunto io volevo creare una perché anche nei film con sceneggiatura insomma a volte ti inventi delle scene ti inventi dei giorni in più insomma lavori alla riscrittura normale che c'è al montaggio e ho usato tutti quelli che Giorgio chiamava gli scarti le spalle cioè delle piccole cose che potessero ridare un po' di spessore in quel momento al personaggio ce ne sono tanti di casi di questo genere cioè nel senso ora io non ricordo un film a volte si abusa anche un po' troppo della dell'affermazione di riscrittura al montaggio cioè nel senso è normale che sia così mi ricordo due o tre casi in cui e lì Cule Shop è venuto in nostro soccorso abbiamo cambiato le intenzioni e la storia biografica del personaggio ovvero sia in una situazione particolare il personaggio era lì con delle intenzioni qualcosa noi siamo riusciti attraverso l'utilizzo di elementi che potrebbero essere scarti piccole espressioni piani d'ascolto particolari che potrebbero essere decisivi in questo senso a rendere un personaggio che in un momento aveva una sua forza e riuscire a scrivere una sottotrama emotiva del personaggio a renderlo un po' più debole e ci serviva quello e viceversa quindi questa è una cosa che ricordo adesso in immediato ce ne sono altre ed esistono sì sicuramente momenti diciamo parlavo di Cule Shop semplicemente per questo cioè nel senso dove le intenzioni registiche di scrittura e di colori da una scena sono state modulate per necessità di racconto e quindi mi aggrappo la sinestesia una sequenza che era arancione abbiamo deciso di farla diventare blu ecco questo è possibile questo è interessante non ho mai avuto diciamo mi pare di no a parte alcuni documentari di creazione c'è una libertà molto più più ampia ho un lavoro che feci proprio qui a Bologna per il Future Film Festival che fu musicato da L'Oswell ed era un film di un'ora e mezzo con una costruzione di tantissimi film a tema catastrofico con L'Oswell che suonava dal vivo quindi lì ho una libertà di strutturare una narrazione da film che avevano già una loro narrazione e di strutturare una nuova però sono film di montaggio sono film in cui è più possibile non mi viene in mente un'operazione come quella si dice fatta per esempio da Bertolucci per Il Conformista cioè dove sostanzialmente non so se è così tu mi conforti su questo il film era stato scritto e pensato con una logica temporale diciamo univoca e poi invece i piani temporali sono stati spezzati ed è un esempio abbastanza importante nella storia del cinema di quegli anni un intervento così decisivo non mi sembra però ecco questo aspetto di lavorare sulle sfumature o cambiare completamente per esempio la biografia emotiva di un personaggio in un determinato momento è una faccenda molto molto interessante cioè Kulejok perché? perché se Giorgio parla dei momenti quegli spazi meravigliosi che sono a fine ciacco a inizio ciacco sono espressioni che probabilmente avevano un loro significato poi strutturati sto dicendo una cosa estremamente banale proprio molto accademica strutturati in un'altra sequenza prendono un significato pazzesco cioè questo è è davvero molto bello e ti fa capire che infatti una domanda che vorrei fare ai miei colleghi ma anche a Giorgio che le possibilità sono infinite infinite e quando finisce un film perché deve finire poi lo rivedi dopo un anno e ti chiedi ma se secondo voi un film è veramente finito cioè in realtà mai io ho degli esempi proprio anche diciamo palpabili perché ho fatto film che hanno direct or scat contro direct or scat situazioni e quindi penso soltanto alla grande bellezza è l'imperfezione è un film imperfetto lo sappiamo che l'imperfetto sarà sempre così 50% della popolazione farà schifo altri 50% piacerà poi ci sono quelli che facevano schifo che vedono la versione integrale e gli piace un po' di più e quelli a cui piaceva prima vedono la versione integrale e non gli piace però in questa imperfezione in questa rapsodia che non è solo del racconto del film ma proprio della fruibilità dello spettatore c'era la grande imperfezione no? abbiamo detto vabbè tanto è inutile abbiamo sbagliato e continueremo a sbagliare anche se ci rimettessimo le mani sopra sbagliato è anche il suo posto ovviamente mi chiedo tu quando finisci un film ti senti che potevi fare meglio ti senti che è finito veramente riesci a separartene ogni tanto lo rivedi dicendo ma forse qui avremmo potuto fare altro a me hai avuto questo tipo di riflessioni soprattutto faccio l'esempio estremo solo per dire c'è un film l'ho montato insieme a Esmeralda a Calabria quello in Amazzonia i miei titoli un giorno devi andare io ogni tanto penso a quel film e penso ma se io vorrei riprendere in mano perché quella parte lì eccetera eccetera perché senti questo è il crucio del regista certo perché senti e sai che tra l'altro c'era quel girato lì ti viene in mente ma quella roba là la mettevo prima dopo vedi il flusso lì perché in quel punto ecco su quel film mi capita spesso di così quando se ne riparla magari in presentazioni così di ragionare di pensare ci paciugherei forse prima o poi lo farò non so quando avrò il tempo per gli altri meno per gli altri meno devo dire che c'è come dire a un certo punto è come se ci fosse una come dire una resa alla creatività la parola è un po' forte si deve continuare a vivere eh si per cui uno dice vabbè siamo arrivati qua e quindi bene poi se tanto più poi il film vedi che funziona quello diventa anche come dire rispetto alla famosa terapia di cui si parlava prima un buon punto di di riappropriazione della vita con una certa serenità quindi eh diciamo però l'esempio di questa di che città cioè che ho citato c'è le forti qualcosina anche in là però questo insomma è normale ogni tanto rivedi dopo anni magari il film sei cambiato tu è cambiato un po' anche il mondo generale la fruizione no? cioè perché se lo vedi dopo tre anni è un conto ma se vedi un film dopo otto dieci i ritmi e le dimensioni sono cambiati no? allora in alcuni casi dici ma quella cosa forse si spostava lì però diciamo questo questo credo che sia di nuovo la bellezza anche del nostro lavoro che è prima cioè in generale insomma è un qualcosa che galleggia nella testa no? poi a un certo punto si concretizza però nella testa qualcosa rimane e ogni tanto lo sbuca dice eh sono qua questo fotogramma questa cosa ci sono casi per esempio in cui è necessario tagliare delle intere scene no? un film molti di questi casi non tutti io devo dire in percentuale sono più contento delle scene che sono state tagliate perché davvero non le credevo necessarie ci sono alcuni casi in cui è stato molto doloroso e allora ti chiedi quella scena poteva funzionare se avessimo cambiato qualcosa dieci minuti prima oppure è giusto non aver cambiato qualcosa dieci minuti prima aver tagliato la scena poi li vedi entrambe le versioni però a un certo punto la sua effazione è tale per cui anche il tempo l'ideale sarebbe veramente l'ideale sarebbe finire un film esserne soddisfatti per lasciarlo congelare per due mesi tornare rivedersi dopo due mesi cosa che non è possibile però questo ti restituisce una virginità di sguardo io non mi ricordo chi fosse Zimmerman un regista che girava i film e poi se ne andava due settimane a scalare le montagne per dimenticarsi completamente quello che aveva fatto e poi tornava forse anche al montaggio si dovrebbe fare questo ovviamente è impossibile cioè non è però se questo tempo fosse garantito al processo di elaborazione dei film i film sarebbero più belli questo lo dico sarebbero più forti più efficaci più espressivi cioè quindi di questo ne sono convinto prego forse c'è un microfono ho interrotto la continuità del tra l'altro viene in mente che forse adesso si taglia anche con meno dolore una scena bella ma non congrua perché c'è anche la cosa forse 40 anni fa era perduta per sempre adesso immagino sempre che c'è il retropensivo di dire vabbè ci sono gli extra a un certo punto questo pensiero scatta no vabbè ci sono se quella è bella in sé ma magari è alla fine c'è sempre l'extra niente la domanda era questa neanche a questi alti livelli ai quali vi sento parlare cioè grandi produzioni grandi registi grandi possibilità espressive c'è contemplata una distanza dal montaggio una distanza proprio per togliere dagli occhi dalla testa anche dal cuore probabilmente un eccesso di visione un eccesso di visione nel senso fa parte fa parte del montare fa parte del creare distanziarsi dall'oggetto non so lo chiedete questo è una battaglia che si fa è una battaglia che sarebbe auspicabile fare però diciamo il montatore non è non ha un ruolo così determinante in termini produttivi per dire questo film per questo film servono undici mesi no in realtà posso dire una cosa che riguarda anche il caso italiano è un po' particolare nel senso che già se uno vede la quantità di settimane che vengono considerate normali per un film italiano e quelle considerate normali in Francia San Rosa sono poco più della metà cioè un film italiano quando noi li consideriamo vediamo un film italiano un film francese dobbiamo sapere che il film italiano è stato girato col 30% di tempo in meno di quello francese e non volevo monopolizzare ma un'altra domanda sempre sul vostro lavoro che mi affascina molto ma che non so fare se voi fate una toilette una vostra toilette personale rispetto alle immagini cioè un attore fa una toilette per arrivare al personaggio e ha dei percorsi anche fuori dal set anzi per lo più fuori dal set questo è è la sua è la sua forza e un montatore ha una toilette ha una toilette in 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 rapporto alle immagini che vede e alla televisione però è interessante questo aspetto cioè se il personaggio del film che stai montando a un in qualche modo tu cerchi di di ripercorrere certi elementi della vita no comunque la risposta è no intanto no nel senso che non non è mai capitato però è un interessante sviluppo si è molto interessante se tu riuscissi in qualche modo a ripercorrere in termini di in medesimazione qualcosa che affina la storia che stai per approcciare è molto bello cioè oltre all'effetto cool il metodo Stanislaschi del montatore del montatore questo è il mio rapporto con la materia cinematografica sì sì certo devi fare dico una stupidaggine una cosa un film sugli anni 40 tutto ambientato negli anni 40 negli anni 40 io che che materiale che materiale vedevo in televisione intanto spengo il telefonino poi accendo la radio poi inizio a fare delle altre cose questo è quello che fa un attore se è emesso in queste condizioni un attore che lavora profondamente lavora così e quando arriva sul set dal regista delle cose ma se è un processo creativo globale e organico probabilmente il montaggio che è una riscrittura perché una riscrittura è un'opera di direzione è rifare il film allora forse anche questo dovrebbe essere compreso e i grandi i grandi montatori i grandi progetti che fate voi la vostra grande umanità la materia con la quale voi ma che maneggiate ha dentro di sé la necessità di questa organicità come rapportarsi intanto la televisione siamo pienissimi di immagini un greco un greco del primo secolo vedeva alcune cose non lo so vuoi rispondere tu Stefano ti rispondo per la mia esperienza io mi preparo per il montaggio di un film nel senso che se c'è una scrittura per me conoscerla molto bene non voglio dire come un attore però le battute sapere quello è il primo passo che io faccio e cerco di prepararmi profondamente a questo a differenza rispetto a un attore credo che sia questa che io vedo un film che è fatto dal regista per cui io devo entrare in quella capito in quella come dire adattare quella visione all'idea che ho io perché il film c'è fisicamente capito quindi il percorso direi che è diverso anche più semplice però c'è certo sicuramente c'è una preparazione c'è anche per esempio un'idea di come ti immagini certe cose sapendo che magari c'è un determinato attore o degli attori o dei luoghi dove viene girato il film insomma una mia idea rispetto per esempio alla scrittura io me la me la faccio poi la confronto ovviamente con quello che vedo e in qualche modo la la rivivo ecco attraverso quello però no volevo dire a volte una volta in realtà mi è capitato con le due puntate dell'amica geniale che ha girato Alice e Rohrbacher che erano ambientate in una certa epoca e ho riguardato dei film di quegli anni per vedere come erano montati per cercare allora in quest'unico caso ho fatto quel tipo di immersione in quell'epoca per vedere se si riusciva in un'operazione chiaramente industriale che non è geniale se si riusciva a dare anche un pochino un aspetto un sapore una cosa un pochino speciale se no di solito nei film è proprio il tuo sguardo su quell'epoca che cerchi se tu fai un film come attore stai dentro è importante che il montatore sia un po' insomma come si dice come lo spettatore che vedrà il film e quindi è importante come dialogano i due sguardi non che sia dentro a quel a quel mondo ci sono vari metodi ci sono per esempio molti montatori che io anche se mi tolgo molto divertimento non voglio mai andare su set mai cioè se quando mi chiedono lo faccio perché non posso imporlo però quando mi si chiede di essere presente sul set a premontare e così via è la cosa che io cerco di evitare il più possibile perché per me l'universo che vedo e non so se questo ha a che fare con l'avere una tua letta o meno è quel piano dello schermo cioè io devo vedere il materiale entrando immediatamente nel processo di fruizione magica che ha lo spettatore di un film deve sorprendermi tanto quanto può sorprendere uno spettatore lo vede la prima volta se io sono dentro le frustrazioni le tensioni o anche le dinamiche di passione che si possono sviluppare in un set potrei esserne in qualche modo influenzato e valutare una scena anche sul piano ideologico e meno sul piano critico io non so che tipo di approccio avete voi però se riesco lo evito al di là di fare la solita visita di cortesia preferisco non essere presente perché credo che questo mi conferisca maggiore lucidità di sguardo soprattutto se devi tagliare esatto esatto no io mi ricordo questo lo posso dire tranquillamente non è almeno la versione diciamo integrale mi ricordo che tra i vari svolazzi perbolici della grande bellezza e super estetizzati c'era un'inquadratura con la ferilli e toni nella sequenza in cui loro fanno questo viaggio notturno a visitare tutti i palazzi romani e mi ricordo questa inquadratura di una fontana una fontana molto antica scusate sto messo male a Villa Medici e la macchina da presa entrava nello zampillo d'acqua era proprio un crane entrava nello zampillo d'acqua e guadagnava i personaggi che uscivano di fronte mi ricordo questa statua di un Apollo la macchina era blimpata comunque in qualche modo hanno fatto non so quanto tempo devo l'avere impegnato per fare queste inquadrature che era per me assolutamente inutile e io nel premontato neanche la montai e Paolo però mi disse no ma hai ragione una cavolata e lui è molto bravo ma molti registri non si affezionano così i registri che dicono questa cosa lasciamo perdere neanche la montiamo a volte ti viene il dubbio ma aspetta forse c'è una forza invece vedo che hanno una lucidità e capiscono che quella cosa non gli serve però per dirti avranno messo due ore e mezzo per fare entrare una macchina da presa dentro un zampillo d'acqua però basta un batter d'occhi sì con Luca immagino io stavo lì dicendo mi sembra così strano però è bastato un secondo di riflessione per dire non è necessario il racconto fossi stato lì con loro presenti di notte mentre giravano questa cosa avrei avuto sempre se ovviamente sempre se è importante averla tagliata perché poi diciamo probabilmente mi sarei affezionato un po' di più avrei cercato di far sopravvivere un po' di più invece in quel caso mi sembrava proprio inutile il racconto quindi questo è un aspetto di Toilette al contrario cioè nel senso che più ti spogli di informazioni forse più sei lucido non lo so l'altra cosa che poi c'è tutta la tua enciclopedia di cinema che hai visto e quindi io so che inevitabilmente tutta la tua esperienza di spettatore e di appassionato entrano nelle tue scelte in un modo o nell'altro dalla porta di servizio o da qualche parte c'è un aspetto citazionistico involontario secondo me che almeno io cioè sono convinto che alcune sequenze le ho approcciate e parte del mio inconscio ha richiamato delle visioni di film che del passato questo sicuramente questo sicuramente alcune le ho rintracciate altre magari no però anche quella è un'esperienza però forse l'idea cioè non lo so quella l'idea di medesimarsi così tanto nella storia è una cosa che mi ha fatto scattare un campanello in test forse può avere un senso cioè non ci ho mai pensato però può avere un senso certo certo sì sì oppure lo elimino c'era vedevo che Sara prendeva appunti non parlava ma scriveva sì ma perché sarebbero tantissime le cose che mi hanno stimolato non voglio sbirciare i tuoi appunti però sono incomprensibili scrivo in una maniera no e quindi non so adesso sarebbe difficile insomma riaffrontare tutto rispetto a quest'ultima questione è vero che a volte io mi sono sentita un po' come se dovessi fare una performance da montatrice io poi in realtà ho delle esperienze diverse perché tanti film che ho fatto li ho seguiti anche durante le riprese sono progetti che ho seguito dall'inizio quindi facendo prima l'aiuto e poi la produttrice quindi purtroppo non avevo questa distanza però è anche per me sempre stato cruciale il momento della visione dei materiali sullo schermo in cui scrivo tantissimo perché ho delle impressioni che poi dopo non avrò mai più e anche delle associazioni che non capisco bene e che poi però magari mi servono dopo e quello un po' per rilasciarmi anche a quello che diceva Giorgio rispetto alla magia di questa fase è vero che il montatore è un po' deve essere un po' un mago di mestiere che riesce a prevedere che cosa lo spettatore in quel momento proverà se si emozionerà cosa penserà e guidare in qualche modo questo e poi rispetto a quello che diceva Cristiano di Walter che parla di questa analogia nel suo libro lui pratica anche questa cosa a cui ho assistito perché ho avuto il privilegio di lavorare con lui dà proprio nei momenti di crisi ai registi una scatoletta con dentro li chiama come dire i rimedi per i registi che sono delle piccole striscioline un po' tipo i bigliettini della fortuna in cui lui scrive delle frasi che tante diciamo utilizza molto Bresson nelle note sul cinematografo che sono frasi brevi o anche di altri e quindi le fa pescare e lui legge e poi l'ho riutilizzato per quei miei studenti nelle fasi critiche così per no questo e poi rispetto alla domanda di Emiliano io sì ce l'ho un momento che è stato diciamo nel mio che ho sempre definito battesimo che è stato il primo film che ho montato che è La bocca del lupo c'è stato un momento a proposito di solitudine in cui Pietro per la prima volta si è allontanato e è andato a un festival in Svezia e io sono rimasta da sola qualche giorno e mi ricordo che feci le notti e quando tornò avevo provato a utilizzare gli archivi che già iniziavano ad essere presenti nel film però la prima parte in cui in qualche modo raccontavano la storia del personaggio e quindi diciamo si visualizzavano i suoi pensieri raccontava di come era finito in carcere e quindi in qualche modo riuscire a raccontare anche la vicenda del protagonista allargando la portata diciamo della storia individuale conferendone un tono epico sembrava un film poliziesco e mi ricordo fu un momento felice perché appunto lui tornò e mi disse che adesso ero diventata montatrice insomma quello fu molto bello come ricordo rispetto alla scrittura di cui parlavo prima che io mi riferivo soprattutto ovviamente al documentario in cui non partendo da una sceneggiatura appunto credo che lì un montatore possa dare magari un'impronta che magari prima non c'era proprio perché appunto si parte magari da un'idea rispetto al discorso invece della distanza e del tempo che è cruciale appunto da un lato io non ho avuto l'impressione cioè spesso nei lavori che ho fatto da anch'io spettatrice di vedere la prima volta perché magari c'ero però in realtà in alcuni casi il fatto di essere presente di avere poi anche prodotto in modo indipendente delle opere ci ha permesso di darci quel tempo che in una situazione normale con dei produttori esterni non avremmo assolutamente avuto e quindi per me quello è cruciale nel senso che io ovviamente quando arrivo a una versione sono soddisfatta di quella versione quindi la chiudo pensando sì ci sono poi dopo una settimana mi rendo conto di tanti limiti chiaramente e nel caso per esempio dell'ultimo film che avevo fatto con Pietro che è Bella e perduta lì ci sono stati anche poi degli eventi durante il film il protagonista della prima parte è morto quindi abbiamo ci siamo presi un tempo che in una situazione ormai non avremmo avuto e avremmo continuato probabilmente il progetto per come era stato pensato all'inizio che era un viaggio in Italia e lì abbiamo pensato di appunto di prenderci questo tempo e di cercare di raccontare la sua storia quindi e diciamo e sono sempre film in cui un po' la modalità di lavoro è appunto sempre stata quella di girare e di montare quindi questo tempo sì io ho avuto la fortuna di averlo spesso ecco anche perché non avevo diciamo delle settimane come nei film di finzione stabilite ma era un processo che anche perché con una mole di girato enorme si sviluppava nel corso poi di mesi minimo sei mesi ogni progetto che ho fatto che poi non è che stavo tutto il giorno lì e e l'ultima cosa che non mi ricordo chi aveva detto era proprio sì forse Cristiano questa cosa della della condivisione del sogno no? cioè perché di fatto è un po' quello no? di condividere con qualcuno il sogno di un film che uno ha immaginato che ha sognato e forse la cosa del finale di lasciare poi andare è difficile proprio perché hai una relazione poi in cui ti approprii anche se ovviamente cioè devi riuscire a realizzare poi a mettere in forma il progetto di un altro diventa difficile poi la fine cioè lasciarlo andare no? proprio perché te ne sei in qualche modo appropriato e e poi è forse spesso nel sogno almeno io che nel sonno che ho risolto tanti dilemmi di montaggio cioè proprio perché da un lato si è vero e serve la distanza però è anche vero che poi progressivamente entri sempre più in profondità e ti perdi io per esempio faccio molta resistenza all'inizio per entrare in un progetto cioè quasi che non riesco da subito perché so benissimo che poi quando ci entro è finita nel senso penserò quella cosa lì per mesi mi addormenterò con quel pensiero però è proprio nell'unico momento di stacco che quindi in quei casi è solo quando dormo che mi sveglio la mattina e dico ah ecco ora ci sono perché ovviamente dormivo e non stavo pensando a quello oppure facendo altro andando in bicicletta magari mi viene in mente ah Carlotta intanto vediamo se c'è un se ci sono domande dal pubblico perché abbiamo ancora qualche minuto se Giorgio da questo anche da questo giro di nella tua duplice veste ma vedo che ci sono già domande dal pubblico sì è da un po' che mi girava in testa questa cosa e intanto volevo ringraziarvi perché vedo finalmente una compagine al 50% più o meno insomma femminile e sono contenta che in questo caso insomma no devo dire che avere a che fare con le montatrici insomma è anche molto interessante oltre a compagine maschile di cui ho pieno rispetto però una cosa proprio rispetto a questo tema no? come diceva appunto in questo momento Carlotta giusto? ah Sara scusa Carlotta Sara scusatemi sono Cristina no dicevo proprio l'iscurso di percezione no? che avete espresso più o meno tutti no? rispetto a quello che è dall'idea iniziale poi la realizzazione che ha dato del regista e di tutto il cast eccetera eccetera e poi arriva questo prodotto questa materializzazione dell'idea in una fase primordiale no? e poi Sara diceva a un certo punto non riesco a farla andare via perché mi ci immergo quindi la percezione dal punto di vista diciamo anche di genere non per farvi una questione di genere però l'attaccamento dal punto di vista anche quasi generativo femminile e quindi questa difficoltà di farla andare è uguale in entrambi diciamo sia la compagine dei signori che delle signore cioè quello che voglio dire quanto la visione femminile poi e la percezione femminile influenza la lavorazione come si diceva prima no? cioè quindi quanto l'incapacità magari di genere questo aspetto generativo può influenzare poi la realizzazione stessa del montaggio e se c'è e se esiste rispondono direi Sara o non rispondono possono anche no credo che debbano rispondere più loro sì entrambi non è una domanda diciamo di genere tanto abbiamo 5 noi abbiamo 5 minuti io sono d'accordo con Sara c'è questa vabbè è un momento creativo in cui poi appunto ti immergi completamente in questa vicenda però insomma è anche è difficile è difficile chiuderlo è difficile dire che lo chiudi oggi però ad un certo punto sei contento di lasciarlo andare insomma cerchi di almeno io cerco sempre di frenare un po' alla fine non sono sicura proprio che sia pronto però insomma quando puoi perché come dice Giorgio è il tempo è il nostro è un'arma importante per noi molto importante quindi diciamo la figura del produttore voglio dire che è quello che fa stringere i cordoni della borsa è un po' ma sai il produttore oppure ci sono le date dei festival sì esatto oppure ce n'è tante la tua hai una relazione comunque molto intima con il regista almeno diciamo forse per il tipo di cinema per cui vengo chiamata io spesso hai una relazione molto intima molto intensa è molto strano quando finisce cioè quando smetti di vederti tutti i giorni o di sentirti tutti i giorni intorno a questa creatura perché effettivamente è un momento un po' come quando accompagni il tuo figlio i primi giorni di asilo in un certo senso un po' anche male le surrogate tutto sommato perché a quel punto poi e poi per questo penso che sia lo stesso per loro per gli uomini sì esattamente la stessa cosa io però non so quanto ma probabilmente c'è una sensibilità e un approccio probabilmente che lo sguardo femminile ha nell'approccio con la vita più che no e quindi anche con il lavoro quindi io credo che esista non saprei definirlo conosco grandi montatrici perché ammiro diciamo ammiro il loro lavoro se ammiro il lavoro di Time Schoolmaker è perché mi piace non ho mai pensato sinceramente perché sia una donna ecco non ho mai fatto questa riflessione ma probabilmente è vero io non lo so rilevare perché fosse troppo sofisticato per il mio sguardo capire se c'è cioè per esempio la la metafora generativa è una metafora molto affascinante ma su quello io non posso rispondere non lo so però immagino che ricordo non faccio nomi una regista donna con cui ho lavorato che aveva un raccontava una storia di donne aveva una direttiva fotografia di donne quasi tutte donne su set e in qualche modo mi chiese un montatore uomo certo ecco questa cosa sono dovrebbe chiedere a questa regista ma io non posso farlo e quindi non so cosa avesse in mente in quel momento però probabilmente uno sguardo diciamo maschile era per lei importante perché rinforzava probabilmente sì è una cosa che ha a che fare con la mia esperienza poi magari ci sono esperienze che sono l'esatto contrario cioè voi avete visto Titan Titan ci sono mi chiedevo ci sono queste scene di macro virilità questi balli di questi vigili del fuoco e mi sono chiesto questo è uno sguardo femminile mi sono chiesto vedendo il film cioè ma non sono riuscito a darmi una risposta realmente non so come un uomo avrebbe girato quelle scene e viceversa e quindi non lo so non so se voi avete fatto un'idea su questo quindi però è sicuro che esistano degli elementi in cui uno sguardo femminile probabilmente ha un'empatia diversa rispetto a un uomo immagino di sì ma questo accade nella vita ecco questo intendo quindi necessariamente accadrà anche nel montaggio direi che grazie mi dicono di ma non me lo dicono è nelle cose sono le 13 siamo perfettamente in tempo sono le 13 anzi le ex 14 le ex 14 e quindi quindi abbiamo ancora più fame a maggior ragione dunque grazie della pazienza al pubblico e ai nostri ospiti e il festival continua oggi ultima giornata con fino alla premiazione e alla proiezione successiva grazie a tutti e buon Halloween no Halloween no sono bruttissimo scusate grazie